Data confermata il prossimo 18 dicembre sabato i consiglieri comunali dei 52 comuni della provincia di Isernia saranno chiamati in via aberta per votare ed eleggere i nuovi dieci componenti del parlamentino provinciale. Dieci consiglieri che resteranno in carica due anni a fianco del presidente Alfredo Ricci che resterà perché deve completare il suo quadriennio alla guida dell'amministrazione provinciale. I partiti sono già in movimento e si pensa le liste dei candidati. Il centrodestra vorrebbe approfittare della scadenza per prendersi una rivincita dopo aver perso i comuni di Agnone e Isernia ma sarà dura perché i voti ponderati sempre di Isernia e Agnone insieme a quelli di Frosolone e Venafro sono quelli che pesano e valgono di più nel tipo di elezione che si terrà in via aberta. I voti dei consiglieri dei comuni più piccoli valgono pochissimo basta mettere insieme i voti dei comuni maggiori per vincere. Insomma il 18 dicembre si vota e si saprà se il centrodestra avrà assorbito e superato la mazzata subita a Isernia. Una data è una data unica fissata a livello nazionale da lupi di concerto con il ministero dell'interno anche per dare un segnale di rilancio anche da un punto di vista istituzionale delle province. Per la provincia di Isernia si eleggerà soltanto il consiglio perché sappiamo che la legge del Rio prevedeva una durata differente per il presidente quattro anni e per il consiglio due anni ora è in scadenza già da alcuni mesi in realtà mi era stato prorogato per l'emergenza covid il consiglio e torneremo quindi ad eleggerlo e a rinnovarlo. È un sistema un po' un po' assurdo se vogliamo lo è perché non votano i cittadini lo è perché come sappiamo il voto dei vari consiglieri comunali non è uguale ma a seconda della dimensione demografica del comune c'è un'incidenza differente per cui ci sono alcuni consiglieri che hanno un voto ponderato maggiore rispetto ad altri. È un sistema sbagliato anche per il fatto stesso che oggi che abbiamo costruito con il consiglio in carica un equilibrio, una collaborazione, una squadra che lavora per questo territorio dovrò a questo punto ripartire anche da zero con un nuovo consiglio ma questo è il sistema che c'è ed è il sistema su cui ci confrontiamo. Chiaramente io auspico che possa esserci un ragionamento quanto più possibile di tipo amministrativo perché la provincia non è un ente che deve giocare partite politiche ma è un ente che deve risolvere i problemi dei comuni, dei territori e quindi dei cittadini.